Grimilde, testo teatrale tratto dal libro Teatro 2 di Stefano Benni. La scena si svolge in una stanza antica con broccati rossi, al centro un computer con lo schermo incorniciato da freggi barocchi dorati. Su un fornelletto bolle un pentolino. Entra Grimilde col mantello nero, si siede e digita sul computer. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? No, ma cosa devo vedere? Ma chi le fa queste classifiche? Ma leggi qua. Questo mese il titolo di più bella del reame va alla contessa Velina Carabas, promessa sposa del duchino Pier Maria, la donna che ha incantato la mondanità di corti e festival con la sua eleganza, la sua classe. La nobile donna nata 36 anni fa a Salamanca? 36 anni? Ma se eravamo a scuola insieme? 36 anni per narice? E mia coetanea? Cioè, voglio dire, eravamo a scuola insieme, ma lei era più avanti, eh? Ma guarda qui, ma guarda che foto, ma cosa si è fatta? Ma altro che naso, questa si è rifatta tutta, eh? Questa l'ha smantellata e riedificata, ma te, guarda i seni, era piatta come una lapide e adesso c'ha dei promontori. E il culo? Ma te c'aveva il culo che strisciava per terra, doveva metterci le rotelline come il triciclo. E guarda qui, che culino è lì in su, il culinolo francese c'ha. Ma qui ci sono volute settimane di chirurgia plastica. Ma che dico chirurgia? Magia, eh. Ma si può essere così fasulli? Guarda, mi viene una rabbia. E io dove sono, specchio maledetto? Neanche nelle prime dieci sono. Si sa però, eh, le classifiche sono tutte truccate. Puoi figurarsi, le fa il conte dolcetto, che primo non gli piacciono le donne, ma gli scudieri. Secondo è cugino, in primis guarda caso del promesso sposo di Velina, il duchino Piermaria. È tutta una mafia, una camarilla. Ah, neanche tra le prime dieci mi hanno messo. E che faccio adesso? Le ammazzo tutte queste rivali? Ah, con Biancaneve era più facile, eh. Ebbè certo, una contadinella. Bella però, eh. Andai a vederla al concorso Miss Fragola. Bella, fresca, una bellezza da educare, da truccare, un sexy un po' stallatico, eh, diciamo così. Ma genuina, belle poppe, tutta roba sua. Se l'ho ammazzata? Ma che ammazzata! Mi è bastata una telefonata, quella viveva con sette piccoli, neri, minatori, neanche uno col permesso di soggiorno. Ho chiamato gli armigeri e via, cacciati dal paese, lei e i suoi nanetti. La mela velenosa? Ma che libri leggete? Ammesso che leggiate ancora dei libri. Ma da sempre in questo reame non c'è certo bisogno di avvelenare le mele. Ci pensa il contadino di suo. Ci mette tanti di quegli antiparassitari che puoi sentire i vermi rantolare dentro. No, 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 no. Allora era tutto più semplice. Una bella lettera anonima. Ma che ci fa una ragazza sola nel bosco con sette uomini? Non c'era mica tanto da scherzare con la moralità allora, eh? Eh sì, la cara Biancaneve. Quasi la ricordo con nostalgia. Così ingenua. Le provinciali di adesso, eh, te le raccomando, certe faine. Arrivano in città che già sanno ballare, cantare e altri optional. Arrivano a corte, un inchino di qua, una culandrata di là, il ciambellano giusto ed eccole dame in poche ore. Anzi, come si dice adesso, vip. Ma aspetta, fammi sentire questa pozione. Mh, che sapore sciapo. E lo sapevo. Non ci avevano le ali di nottola. E ci ho dovuto mettere quelle di pollo. Sembra facile, eh? Ma sapeste com'è diventato faticoso fare una pozione magica? Intanto non si trovano gli ingredienti. Ad esempio, gli occhi di drago bucefalo. Già bucefali ce ne sono pochi qui. Li massacrano perché ci fanno i pantaloni per i divi del rock. Sapete quei bei pantaloni stretti, lustri di moda. Loro alla moda e il bucefalo al camposanto. Una volta qui era pieno, eh. Volavano come rondinoni. E faceva un fumo dalla bocca. Adesso ce ne sono solo tre allo zoo, poverini. Tristi. Con i turisti che si fanno arrostire le salsicce col fiato. E loro, puff, che fanno la loro vampatina. Se no, non gli danno da mangiare. Eh, un destino da barbecue. Beh, anche i dracuculi, eh. Quei draghetti verdolini che c'han l'occhio che è una prelibatezza. Eh, ora son razza protetta. Ti vendono l'occhio di drago e invece è di vitello. Che schifo. E le lingue di serpente? 20 euro al chilo al mercato. E per giunta insipide. Che invece è i miei tempi. E basta dire i miei tempi. Ai tempi di quella velina lì, sposa al duchino, vestita di bianco, la verginella di carabas. Ma guardatela. Che sorride a bocca larga. C'è la larga perché ne ha fatta di ginnastica con quelle labbrone. Una volta mi ricordo che, no scusate, scusate, per un momento ho avuto la tentazione di una volgare charla, un pettegolezzo. Ma non è nel mio stile. Son sempre una regina io, eh. Anche se decaduta. Eh, una volta quando entravo a corte io, era come un vento gelido. Come se tutti i colori s'annebbiassero. Mi portavo dietro la paura. Una nuvola che copriva tutto e anche il re mi temeva. Strega Grimilde. Regina della torre nera e della palude e dei lamenti. Si accomodi. E intorno a me sentivo bisbigliare. È malvagia. È perfida. È cattiva. È cattiva. Strappa il cuore dei suoi amanti e se ne ciba. Ma non era vero niente. Sì, vabbè, qualche schiaffone a qualche amante che ci godeva pure. E anche il re, insomma, quando entravo in camera sua con la frusta. No, 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 no. Non parlo. Sono una strega gentidonna. Eh sì. Allora c'erano vere streghe malvagie. Si rischiava la vita, eh. Il rogo, la galera. Adesso cosa rischi? Che ti tolgono il programma in prima serata. Rischi che il tuo protettore perde il posto di sottosegretario. Rischi che i fotografi non ti fotografano più. Streghette da calendario. Trasgressive la metà di un mezzo nano. Velina Carabassa, la più bella del reame. Ma dai, quella porcellina ritinta. Io ero bella. Tanti anni fa ero bella. Come una vampira. Come una notte di bufera. Poi allo specchio ho visto qualche ruga. Vabbè, un po' di ciccia di qua, un po' di ciccia di là. Allora mica si chiamava Cellulite. Si chiamava ciccia. E le amiche mi dicevano. Vai, fai un po' di moto. Vai a piedi. Sempre su questa scopa. Ma io c'avevo le mie pozioni di giovinezza. Altro che lifting. Mi facevo tutto da sola. C'era ad esempio una pozione che si chiamava Ventivia. Allora, dentro ci mettevo il bucefalo fresco, sfilettato. Poi una manciata di erba carogna. Poi c'era... Aspetta, non mi ricordo. Guardo nel ricettario. Allora... Ah sì, prendere un teschio di bucefalo ermafrodito morto in una notte di luna. Soffriggere finché sia bello scurito. Aggiungere ali di farfalla Saturnia, due occhi di rospo, un dado da brodo Belfagor. C'era la pubblicità anche allora, eh? Una manciata di erba carogna. Uno stronzetto secco di cane di nonnaccia cattiva. Uno stronzetto secco di nonna con cagnaccio cattivo. E guarnire con codine di sormolotto di fogna. Bere a testa in giù, pronunciando le parole. Se invecchiare non vuoi mai, bella e giovane sarai. Bella mia, venti via! E la pozione ti toglieva di colpo vent'anni. Caro chirurgo plastico, toglioli tu vent'anni in un colpo. Perché ho smesso con le pozioni? L'ho già detto, gli ingredienti. Il sormolotto, il ratto di fogna, adesso san di detersivo. L'erba carogna ormai si trova solo in qualche camposanto in Irlanda. I pipistrelli non sono più neanche quelli di una volta. Ma soprattutto, vedete, alle pozioni bisogna crederci. Cioè, bisogna che tu ti trasformi non solo fuori, ma anche dentro. Via vent'anni, bella mia! Venti via! Magari non ringiovanivi proprio di vent'anni. Qualche ruga ti restava. Ma ti sentivi piena di vita, cattiva, curiosa. Si usciva fuori, alla luce della luna, a fare qualche cattiveria a chi se la merita. Che poi è quasi essere buoni fare cattiverie a chi se le merita, no? Biancaneve se lo meritava? No, infatti un rimorsino ce l'ho. Ma l'invidia! Che bella cosa l'invidia! Come la invidiavo e come ammiravo la sua bellezza! Quando lei è andata via con i suoi sette migratelli, quando nel reame si è diventati tutti alti, eleganti, ben vestiti, beh, allora forse ho cominciato a invecchiare. Vedendo che per quanto mi sforzavo a essere cattiva c'era gente molto più cattiva di me. E cos'è mai una mela avvelenata? Guarda quella fabbrica lì fuori dalla finestra. Che fumo nero! Mille volte quello del mio pentolone! E senti questo stridio? Questi gemiti? È l'autostrada, proprio sotto il castello. All'inizio il rumore mi faceva diventare pazza, eh? E io urlavo. Carri di metallo! Io vi lancio la maledizione! Io vi dico che entro l'anno uno di voi morirà! Uno all'anno? Ma ne morivano trenta la settimana senza che io li maledicessi. Si schiantavano a uno contro l'altro come stregati, ai duecento, con una luce diabolica negli occhi. Mi chiedevo, ma quale demone, quale stregone li ha resi così folli? Prigionieri di questo inferno! Quale sortilegio li possiede? Un giorno ho visto la pubblicità delle auto e ho capito. Come vivo? Male. I gioielli li ho venduti. Servitù non ne ho più. Il castello è andato in rovina. Ho provato a fare un agriturismo, eh? Ne ho avvelenati due il primo giorno. E beh, oh, scusate, mica è facile passare dalla zuppa di batracce alla ribollita, eh? Ma hanno chiuso. Non ha il permesso di igiene, signora Cremilde, ci dispiace? Cremilde con la C mi chiamavano. C'avevo anche due bei fantasmi, eh? Un cavaliere decapitato e una dama ululante. E li ho dovuti vendere a un petroliere americano che se li tiene nella sala da biliardo. Lo specchio? Ah beh, un giorno arriva un giovane stregone, elegante, distinto, mi dice Signora Cremilde, ma questa è roba vecchia. Il suo specchio sa appena quello che succede da qui al fiume. Ma il mondo è grande, signora. È pieno di cattiveria. Vuole sapere fin dove arriva la cattiveria? Sì, prenda questa computer. Ci sono siti segreti, catacombe dell'anima, che lei non immagina nei suoi peggiori incubi. Siti di orchi, di necrofili, di adoratori del diavolo. Basta una parola magica per entrare. Ed era vero, eh? Cosa ho visto? Ho spento lo schermo. Io, una strega, ho provato. Orrore. E allora, cosa mi è rimasto? Eh, un po' di mondanità. Le feste a palazzo. Continuavo ad andarci, eh? Ma non avevano più paura di me. Ma forse un po' di curiosità. Ero un pezzo d'antiquariato. Li sentivo bisbigliare. Ma era una strega. Faceva fuori gli amanti. Era palp. Ha ammazzato le contadinelle per sembrare lei più bella. Ma è stata la prima a fare il lifting. Si accoppia con gli elfi? Eh, sì, magari. L'ultimo elfo che ho visto ci aveva la lingua di fuori. Corri e scappa con tutti quei cacciatori in zona. E mi chiedevano. Oh, signora Cremilde, ci racconti di quella volta che uccise lo scudiero? Perché le ha portato il cuore del cerbiato invece del cuore di Biancaneve? Eh, io raccontavo, eh. Romanzavo un po', aggiungevo qualche bugia. Però poi mi sono accorta che mi prendevano in giro. Che ridevano di me. Che erano dieci volte più perfidi della vecchia regina perfida. E una volta un nobiluomo baffuto e repleto, che tutti tenevano in gran considerazione e rispetto, mi si è avvicinato e mi ha detto Ma sa che lei è una donna interessante? Sa che io conduco un salotto televisivo dove quelli come lei sono invitati e possano raccontare il tempo andato e i loro rimpianti e il loro decadimento e piangere e la gente li circonda di compassione e pena. Pena, ho gridato. Ho raccolto le forze per un ultimo incantesimo a questo baffetto di merda e l'ho trasformato in rospo. Ma ci ha guadagnato. Gli è salita l'audience. Ha fatto una trasmissione che si chiama Melma. Un successo nel rospaccio. Eh, così va il mondo. Ai miei tempi... Oh, basta! Sì, ai miei tempi! Va bene? Ho smesso di fare pozioni. Lasciatemi invecchiare. Volete sapere la mia età? 432 anni. Li faccio in agosto. E allora? Ogni età ha la sua bellezza. E poi non mi importa. Nella sezione Miss Vecchie Glorie l'anno scorso ero settima. Quest'anno neanche quello. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più cattiva del reame? Neanche in questa classifica ci sono. Eh beh, visto che come malvagia mi batton tutti, provo a cambiare stile, mi son detta. Faccio beneficenza. Faccio un concerto per le vittime delle streghe. Chiamo un po' di cantanti, con le bracche di pelle di drago mi faccio un po' di pubblicità. Ho fatto un concerto in ricordo di Biancaneve. Non è venuto nessuno. Tre cerbiatti e un nano vecchio che estarnutiva. Ma Grimilde non poteva finire così. Allora una notte ho detto. Voglio proprio vedere se non faccio più paura. Io sono la regina del male. Ho spaventato cavalieri e re, fanciulle e maghi. Mi sono messo il mantello di squame di pesce abissale. Cent'anni che non lo mettevo, eh. Puzzavo come un baccalà. Ho preso la scopa, non partiva. Son salita sul cavallo nero, ma sgroppato. Sono andata a piedi col sottanone sollevato. C'è un posto diabolico qua vicino. Viene fuori del fumo colorato. E lamenti. E una musica infernale. Discoteca si chiama. Lì sì che si prendono pozioni magiche. E pieno di ragazzine da avvelenare e ragazzi da tramutare in rospi. E mentre correvo lì pensavo. Qua faccio una strage. Si ricorderanno di me. Grimilde colpisce ancora. La vendetta di Grimilde. Tremate, tremate le stre... No, questa è vecchia. Dunque, sono arrivata davanti alla discoteca. E c'erano due giovanetti, biondi, dolci, timidini, due bocconcini. Mi son messa davanti col mio sguardo più palvagio. Così ho detto. Lo sapete chi sono io? No, signora. Hanno risposto. Erano come assopiti col volto intontito. Già li avevo stregati. Sono Grimilde, la regina perfida. E ora, ma la sorte e sortilegio, vi trasformerò tutti e due in schifosissimi rospi. Ho preparato la formula magica. Non salaga d'ula, che è pericolosa perché ti possono sempre rispondere in rima e non è bello. No, roteo la bacchetta e dico. Vento di palude, fetore, schifezza. Qua vi trasformo e vi cangio fattezza. Occhio di bucefalo, spina di caprimulgo, sembianza umana. Per sempre vi tolgo. Allora la ragazzina bionda mi ha guardato e mi ha detto. Ah, nonna, ma da che te sei fatta? Il ragazzino ha detto. Ah, stronzo, non so se sei una donna o un travestito, ma levati dai coglioni che io e Cinzia se dovemo affrattà. Sono saliti su una moto nera come un dragone e hanno emesso un rumore di tuono e una nube di fumo tetido e mi hanno puntato contro. E io ho gridato, attenti i piccoli mostriciattoli che io posso trasformare il vostro cavallo di ferro in un gigantesco lombrico. E ho pronunciato la formula magica Abra alla calanza Pokémon Carabas e... E mi hanno investito. Sette mesi all'ospedale, con dodici infermiere, tutte suore. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più sfortunata del reame? Terza? Sono terza? Ah, beh, meno male che c'è qualcuno che sta peggio di me. Ah, vediamo se è pronta. Sì, 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 è pronta. Pozione? Ma che pozione? È una tisana per i reumatismi. Via tutti! O vi trasformo in salamandre! Via da casa mia! Maledetti! Voi non sapete quanto sono cattiva! 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 Cattiva!